Coloratissimi i panchetta arance e carote con tante tante fragole, leggerissimi e semplici da preparare. Ingredienti, farina, un pochino di lievito, arance, carota, zucchero, olio e qualche fragola. Spremi le tue arance, lava, pela, taglia pezzetti e frulla la carota. In una ciotola, versa il succo d'arancia assieme a un pochino di acqua. Aggiungi l'olio, poi la farina che avrai mescolato con il lievito e frulla tutto quanto. Facoltativo lo zucchero, eh! Frulla, 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 fino ad avere un composto bello liscio. A questo punto scalda bene una piastra o padella antiaderente e versa un piccolo mestolo di impasto per ogni pancake. Aspetta che faccia le bollicine, gira dall'altra parte e finisci la cottura in qualche minuto. Impila in un piatto, lava, lava bene 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 le fragole, scolale e poi fa le affettine. Aggiungi le decore ai tuoi pancake assieme allo sciroppo d'acero. Servi subito, fai pieno di vitamine e di fibre. La ricetta completa sul mio blog Timolenticchie. La ricetta completa sul mio blog là, grazie a tutti.